Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo mio nuovissimo video dove oggi vi farò vedere le mie cover per il mio cellulare dalla più normale alla un po' più speciale Allora, io ho un iPhone 6S e vi faccio vedere le cover Allora abbiamo questa, blu, molto bella non ha niente di speciale però mi piace molto il colore azzurro e blu Ed eccola qua E questa qua è in gomma, in silicone così se si piega, tac in teoria non dovrebbe neanche rompersi infatti non si è ancora rotta per il momento Poi abbiamo questa che di solito la uso a Natale rossa con i brillantini molto bella mi piace moltissimo, mi piace un sacco questa cover rossa Poi abbiamo questa con alcuni particolari del mondo tipo c'è la Statua della Libertà il Big Bang, la Torre di Pisa la Torre Eiffel il Colosseo c'è un po' di tutto con la valigia di solito questa qui si usa quando si fanno i viaggi è molto carina però non mi ricordo dove l'ho comprata poi abbiamo questa cover qui nera, scuro non è male ma non è che la metto sempre anche questa qui è in silicone come le altre tre che vi ho fatto vedere poi ho questa militare con il contorno rosa che è questa molto carina non è molto speciale perché qui dietro è abbastanza duretta però sì, non è male la uso ma non sempre sempre poi abbiamo questa molto speciale per me è molto molto speciale ci sono io, mio moroso e il mio cagnolino questa mi piace un sacco è molto molto bella l'avevo fatta fare a Milano in un centro commerciale e questa è fantastica è la mia preferita poi abbiamo questa questa è di Milano con il Duomo e le macchine del 500 è originale della Waynot non so se conoscete la linea che fa le borse e ha fatto anche le cover e anche questa l'ho comprata in un negozio molto molto bella questa è dura che si spezza però mi piace un sacco molto molto bella anche con i brinantini se riuscite a vederli anche questa mi piace molto e la uso anche molto anche quella poi abbiamo questa cover molto carina simpaticissima con i sushi molto bella anche questa qui in silicone non mi ricordo questa dove l'ho presa però anche questa è molto simpatica anche questa la uso poi abbiamo la cover di Darth Vader perché io sono un amante di Star Wars sono sempre la prima al cinema quando esce con i libri ho di tutto poi vi porterò un altro video su Star Wars questa è la cover con Darth Vader anche questa l'ho fatta fare in un negozio in un centro commerciale a Milano però era diverso da un'altra cover e me l'hanno fatta con una stampa semplicissima che gli ho chiesto io anche questa invece è in silicone anche questa molto bella anche questa la uso molto spesso invece alla Disney Store di Milano mi sembra sì ho trovato questa la cover di Kylo Ren il nipote di Darth Vader ovviamente molti di voi lo conosceranno se seguono Star Wars questa però non è in silicone è in plastica quindi si rompe però è molto bella anche questa la uso molto spesso poi abbiamo questa in semplice silicone con la Torre Eiffel sarebbe stato bello prenderla a Parigi ma in realtà a Parigi non ci sono stata e l'ho presa qui in Italia però è molto molto bella anche questa e la uso anche questa poi ho preso questa cover che è semplicissima con un astronauta qui si vede la mela del telefono e ci sono alcuni pianeti in silicone questa non è chissà che ma è semplice normale molto carina dai anche quella poi abbiamo questa cover è un po' simpatica vedete la parola io non ve la dico l'avevo presa in giro non mi ricordo dove non è in silicone anche questa è in plastica quindi bisogna stare attenti che si rompe anche questa blu vedete il colore blu bello poi abbiamo un'altra cover rossa a me piace molto il rosso e il blu come avete notato questa è in silicone molto morbida quindi non si rompe anche questa la uso spesso soprattutto per le feste e qui c'è c'è il logo della mela ci viene fuori la mela molto carina poi abbiamo questa con tutte le emoji questa è anche questa è una delle mie preferite che mi piace un sacco con tutte le emoji anche questa è in silicone molto carina anche questa poi abbiamo questa semplicissima cover dove c'è anche il chiudi qua che non si rompe lo schermo in teoria qua si vede sempre la mela e come potete vedere è azzurro anche questo poi abbiamo questa qui di Justin Bieber che mi ha regalato la mamma che me l'ha preso in un negozio molto bella bellissima con la copertina dell'ultimo cd che ha fatto questa però si rompe anche questa perché è in plastica ma anche questa la uso molto spesso poi abbiamo questa cover viene direttamente da Barcellona che l'ho presa col mio ragazzo l'anno scorso quando sono andata in viaggio a Barcellona due settimane molto bella è di silicone però c'è stampato sopra il mosaico e il gecko di Gaudì che se lo conoscete è quello che progetta tutti i mosaici poi c'è il Park Gel dove c'è la sua casa e tutte le strutture in mosaico molto molto bello vi consiglio di andarci se andate a Barcellona andate al Park Gel che è bellissimo qua c'è scritto Barcellona e niente anche questa la uso molto spesso perché è molto colorata mi piace perché arriva da Barcellona poi abbiamo questa con Bart Simpson anche questa è in silicone bellissima anche questa molto spiritosa con Bart Simpson i Simpson li conoscete sicuramente e poi abbiamo questa con il cocktail disegnato sopra un cocktail e dentro c'è questa specie di liquido che fa vedere che c'è il cocktail molto carino anche questa questa non la uso sempre però in silicone è molto pratica anche questa mi piace poi abbiamo questa non so se conoscete Totoro il personaggio del Giappone molto molto bello anche lui e vi consiglio di guardarlo Totoro il cartone molto molto simpatico e questa cover qui è in plastica quindi devo stare attenta che si rompa questa l'ho comprata in una fiera del fumetto qui a Modena bellissimo poi abbiamo questa cover del lupo come potete vedere azzurro ovviamente e vi fa riflesso e c'è un lupetto qui e anche questa qui è in silicone mi piace tantissimo anche questa la uso molto la uso spesso questa cover si si poi abbiamo i fenicotteri che adesso c'è la mania dei fenicotteri a me piacciono un sacco ho di ogni camera mia dappertutto di fenicotteri e qui abbiamo anche questa qui è in silicone con un sacco di fenicotteri rosa sono bellissimi anche questa la uso moltissimo poi abbiamo questa cover qui del pappagallino piccolino piccolino anche questa è molto bella molto colorata come potete vedere lo sfondo azzurro ovviamente e questa però è in plastica quindi si può rompere anche questa ma mi piace moltissimo è una che uso molto poi abbiamo questa cover qui abbastanza speciale perché ha questa cosa qui questo supporto per il telefono che può stare anche in piedi il telefono ovviamente così potete vedere anche i video eccetera questa c'ha l'orso io dico che questo qui è il bicchiere di coca cola fredda con l'orso perché non vi so se ricordate anni fa c'era la pubblicità della coca cola dove c'era l'orso bianco e mi ricordo un po' quella insomma e anche questa è una che uso molto ma è molto pratica perché ha il supporto appunto per il cellulare poi abbiamo questa con il cagnolino che mi piacciono molti cani infatti ho un New Yorkshire dove c'è scritto l'invidia è una brutta bestia e qua ci hanno messo il cagnolino questa la uso poco però perché come potete vedere la testa qui è molto voluminosa non saprei dove metterlo però ogni tanto la uso sì poi abbiamo questa anche questa molto voluminosa con le orecchie tutte in perline e qua è plastica no è di silicone e sì non è male ma la uso pochissimo questa qui non l'ho quasi mai messa poi abbiamo questa con sigarette che c'è scritto no smoking e ovviamente non fumo però me l'hanno regalata e mi piace dai non è male in gomma molto elastica così non si rompe sì la uso ogni tanto non sempre sempre poi abbiamo questa è specifica proprio per Natale perché c'è le cornina le corna della renna e qua abbiamo il cuoricino che sarebbe il nasino di Rudolf la renna Rudolf di Bobo Natale e questa oro ma anche questa non si rompe perché è in silicone questa si usa molto per Natale ovviamente poi abbiamo questa cover che mi piace molto con la volpe rossa e questa è bellissima molto dura e compatta quindi questa non si romperà mai spero perché mi piace molto con la volpe poi abbiamo questa qui della Marvel con tutti con un'immagine di un fumetto che non so specifico quale sia il fumetto però c'è un po' di tutto c'è Hulk e poi che abbiamo abbiamo i Fantastici 4 e poi abbiamo il Wolverine e poi da qualche parte in giro c'è anche Capitano America ci sono un po' di tutti in pratica molto carina anche questa l'ho presa in un cover store a Reggio Emilia e molto bella molto bella sì 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 mi piace molto anche questa è in plastica quindi si potrebbe anche rompere poi abbiamo questa cover semplicissima con un simbolo indiano che è lo cacciasogni cacciasogni è vero sì cacciasogni molto carina col bordino azzurro ovviamente sempre qua ci viene fuori la mela molto carina era da un po' che non mettevo questa cover qua in realtà poi abbiamo ah questa cover qui con il bel leoncino con scritto lid molto carina questa è compatta anche questa non si dovrebbe rompere la uso poco questa però mi piace poi questa c'è qua c'è la mia prima cover di quando ho comprato questo telefono che non volevo che si rompesse lo schermo si chiude qui dietro invece è trasparente così si vedeva il colore del telefono sì non è male ma non le uso quasi mai queste qui che si chiudono la copertina infatti ne ho poche c'è anche questa qui con la torre Eiffel che si apre e questa qui anche questa c'è la torre Eiffel anche qua dietro sì non la uso quasi mai comunque anche questa questa è l'ultima che ho che si chiude a libro che c'è scritto believe questa mi piaceva perché c'è scritto believe e ha tutti i brillantini mi piace molto anche come colori è molto carina ma non la uso quasi mai poi abbiamo quasi finito le ultime tre abbiamo questa qui di Starbucks coffee questa è bellissima in gomma scusate sono un po' raffreddata in questi giorni in gomma bellissima questa qui l'ho presa una fiera mi sembra sia una fiera non mi ricordo quale però mi piace un sacco questa è una delle mie preferite poi abbiamo sempre un'altra delle mie preferite il teddy questo teddy è bellissimo secondo me l'avete già visto in giro con una cover del genere fanno anche il profumo mi sembra a forma di orsetto fatto così mi piace un sacco anche questa solo che si sono abbastanza ingombranti infatti quando vado via cerco di prenderle ma le uso proprio quando so che tengo il cellulare in mano che non lo metto via poi abbiamo l'ultima cover che è l'ultima infatti che ho comprato e non poteva mancare ovviamente che è l'unicorno l'unicorno è semplicemente bello è bellissimo questo unicorno vi piace a me piace un sacco poi vi ricordo di seguirmi su instagram vi lascio il link in descrizione se volete commentare mettete la vostra la vostra opinione sulle cover fatemene vedere alcune anche voi se volete mettete quella che vi è piaciuta di più fate come volete e comunque mi sono dimenticata di farvi vedere la cover che ho attaccato al telefono accidenti ce l'ho attaccata al telefono mentre sto registrando e ora chiudiamo questo video e dopo farò un montaggio con l'ultima cover che ho che vi piacerà sicuramente soprattutto ai maschietti ciao a dopo ragazzi ed eccoci qui come promesso ho qua la cover che avevo attaccato al cellulare appunto come vi dicevo e piace moltissimo ai ragazzi se gli piace il calcio ma a chi è che non piace il calcio di voi maschietti quasi a tutti abbiamo la cover di cristiano ronaldo ovviamente l'ho presa al mare questa l'ho presa a riva azzurra e questa è in plastica si potrebbe rompere ma spero che non si rompa perché l'ho pagata anche tanto questa qua di cristiano ronaldo che finalmente è passata alla juventus la mia squadra preferita del calcio ed eccola qui la cover di cristiano e io con cristiano ronaldo ora vi saluto alla prossima seguitemi su instagram grazie a tutti